Eccoci qua, hola Todes, tonda Time's Up, torna parlando di un aspetto laterale dell'attualità. L'attualità ci sta offrendo tantissime storie da quelle più note, quindi all'Europeo di calcio maschile, a Berrettini, ma ci sono anche tante cose interessanti, per esempio nell'atletica, nella scorsa puntata abbiamo parlato di Marcel Jacobs che sta facendo di grandi tempi, grandi tempi, e abbiamo grandi aspettative per un atleta che potrebbe fare ottime cose e la butto lì anche per figurare nella finale dei 100 metri all'Olimpiade. Speriamo però, finora sta dimostrando di essere ampiamente competitivo, ma questa è altra storia. Di cosa parliamo? Parliamo di un aspetto laterale relativo alla Coppa America, che è stata vinta in queste ore dell'Argentina con una partita sensazionale di De Paul, poi ci sarebbe Di Maria, ma sono troppo di parte. Ovviamente, perché parlare della Coppa America e dell'Argentina? Perché in queste ore, nel subcontinente indiano, ma soprattutto in Bangladesh, ci sono dei festeggiamenti assurdi per la vittoria dell'Argentina. Ora la domanda è, come mai in Bangladesh sono fanatici del calcio argentino e della Session? Questa è la storia che voglio raccontare oggi. Come diventa il calcio in Bangladesh un fenomeno di massa? Partiamo da qui. Comincia a esserlo in occasione del Mundial 82, per un motivo semplicissimo, perché il Mundial 82 è il primo mondial che viene trasmesso dalla TV in Bangladesh, e quindi c'è una platea di migliori di persone che può vedere le partite e comincia a affezionarsi al calcio e comincia a affezionarsi al nazionale che gioca meglio, che non è l'Italia di Berzot, piace o non piace, non è stata la scuola migliore per gioco espresso, è stata perché ha vinto con merito, ma è il Brasile di Telesantana, il grande Brasile di Zico, Sereso, Falcao, eccetera, 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 che crea un piccolo culto di massa attorno al Brasile, questa ce la teniamo da parte. Poi arriva il Mundial 86, arriva il Mundiale Messicano, arriva il Mundiale del DS, è il Mundiale di Diego Armando Maradona, e quindi si crea una specie di faida. Da un lato tutti quei brasiliani che sono affezionati al Brasile restano filobrasiliani, e dall'altra parte gli affissionados del DS, i maradoniani, che crescono col Mundial 90, anche con la famosa vittoria a Torino, quella del Caniglia de Vacuño, quella della famosa canzone di Sime che se siente, e poi con il Mundiale del 94, dove Diego viene escluso a causa della controversa vicenda del doping, e che scatela a tacca delle altre città del Bangladesh proteste di massa e addirittura suicidi di massa, una roba incredibile, che non ha attinenza per fine l'Argentina. Cioè, in Bangladesh ci formano delle proteste di massa perché la FIFA ha buttato fuori Maradona dal Mondiale, cioè una roba fantastica. Comunque, e quindi c'è questa sorta di iglesia maradoniana, che si trasmette ovviamente anche dopo, quindi anche al resto dell'Argentina, e ovviamente a Leo Messi che, col suo giocare calcio in maniera esaltante, ridà vita al fuoco che aveva creato Maradona. Attenzione, Maradona non si è mai recato in Bangladesh e questo è un enorme dramma per il popolo, anche perché era previsto che l'anno scorso, nel 2020, Diego dovesse arrivare in Bangladesh, era prevista questa visita, accolto, si è venuta accolto come un capo di Stato, poi non c'è stata, e quindi c'è questo enorme rimpianto da parte del popolo e anche della politica del Bangladesh, che, quando è morto il DS, ha parlato di un lutto drammatico per la nazione del Bangladesh, al punto tale che, durante le partite di cricket, sappiamo quanto vale il cricket nei paesi del subcontinente indiano, si sono osservati dei minuti di silenzio, prima delle partite il ricordo di Maradona e le stelle del cricket del Bangladesh hanno ricordato Diego come se fosse un riferimento, una specie di mito sportivo universale, anche per chi non ha a che fare direttamente con la pratica del calcio. Arriviamo a questi giorni. In questi giorni, la polizia di Stato del Bangladesh ha organizzato dei piani di ordine pubblico per evitare che le fazioni brasiliane e argentine si scontrassero per le strade. Siamo a questo livello in Bangladesh, cioè proprio di un fenomeno sociale enorme che ha grandissima portata. Ed è difficile immaginare questa cosa per noi europei, e ci dovrebbe far riflettere anche sulla portata popolare enorme che può avere il calcio. E quindi oggi vi lascio così, con questa idea, io vi consiglio anche di cercarvi le immagini, le trovate, cercate Bangladesh Argentina su qualsiasi social, le trovate, sono immagini molto belle di una festa popolare, di una festa popolare che è nata 35 anni fa. E attenzione, non è nata in chiavanti inglese, non è nata perché c'erano i colonizzatori britannici, è nata perché la gente vedeva Maradona giocare il calcio meglio di chiunque altro e si è affezionata all'uomo e al calciatore Diego Armando Maradona. È questo che rende il calcio un fenomeno globale ed è questo che continua a esserlo, perché anche nelle sconfitte di Messi sono sicuro che è cresciuta questa affezione per Messi, perché lo rendeva umano, lo rendeva straordinario nei gesti e come tutti gli altri nel modo di essere, nell'affrontare i drammi dell'uomo. E questo potere continua a vivere. Quindi concludo qua con questa grande storia di sport perché al di fuori del grande lavoro che c'è nel campo, c'è fuori dal campo, è tutto. Poi, se non ci fosse questa mistica, ci sarebbero i gesti, ma varrebbero fino a un certo punto. Io vi lascio e Time's Up torna presto. Io vi lascio e Time's Up torna presto. Io vi lascio e Time's Up torna presto.